e noi siamo felici di concedere il premio Casa del Correto quale migliore giocatrice in campo a Giulia Costinetto un premio che settimanalmente concederemo a tutte le giocatrici Giulia hai giocato in condizioni forse al 10% nonostante questo hai dimostrato di dare il tuo apporto il nostro premio è alla giocatrice soprattutto al cuore perché tu sappiamo che qui a Santa Teresa non stai giocando solo per sport ma soprattutto per qualcosa che senti dentro sì sì è così la mia scelta ovviamente è tutta a cuore sono molto contenta mi dispiace veramente di non essere stata al 100% questa sera perché comunque quando una si allena, gioca, aspetta questa partita ti vediamo visibilmente emozionato per una che ha giocato in Serie A2 e che ha il curriculum del tuo livello significa capire quanto tu ci tieni a questa squadra quanto tu ci tieni a questo ambiente e sicuramente riveliamo cosa è successo durante l'ultimo allenamento l'abbiamo detto già in diretta, hai avuto un infortunio sì purtroppo ieri sera mi sono fatta male alla schiena ma a me interessa poco nel senso interessava vincere con me senza di me certo mi dispiaceva se non riuscivo a giocare ci ho provato insomma qualche cagata l'ho fatta però vabbè non fa niente l'importante era vincere e abbiamo decisamente vinto bene ecco dico l'infortunio è un infortunio diciamo risolvibile in breve tempo ah io penso proprio di sì insomma niente di però stamattina l'ho vista un po' brutta però va bene dai è andata e adesso dopo questa vittoria sull'Aragona io mi riposo, gli altri non lo so io voglio riposarmi domani ti ringrazio per essere venuta in mentre Maria Grazia Allegra ti applaude dal parquet io ti ringrazio per essere intervenuta qui con noi in diretta sappiamo che se hai salito a stento le scale ti do il premio offerto dalla casa del Corredo è un fantastico pledge in velluto col quale allederai il tuo inverno siciliano complimenti ci rivediamo nelle prossime dirette grazie e complimenti ancora a tutti, ciao, saluto i miei genitori che sicuramente mi stanno guardando salutiamo il signor Michele che ci segue da lontano le sorelle e la mamma